Voi due ricordate quando mi avete detto che se avessi preso il massimo dei voti all'esame di terza media avrei potuto avere qualsiasi cosa volessi come regalo per la promozione? Io... lo abbiamo detto. Era solo per distrarti dal tuo desiderio di avere un pony. Beh, quello lo volevo quando ero piccola. Ora voglio qualcosa di completamente diverso. Volete sapere cos'è? Non lo so. Vogliamo? Oh, comporta il dover lasciare la casa. Un viaggio di famiglia in Antartide! Dovremmo andarci per le vacanze di Natale. Cioè fra un mese? Ah sì, perché lì è estate ed è l'unico periodo in cui ci si può andare. I pony alla fine sono carini e in questa casa ci starebbero benissimo.